Il tema è di stringente attualità, ancora di più all'indomani dell'approvazione del Job Sect. Ma nella prima serata della settima edizione della Settimana Biblica Diocesana di Andria, di lavoro si è parlato, rifacendosi alla critica sociale dei profeti. Lo ha fatto Don Patrizio Rotas Calabrini, docente di Esegesi presso la Facoltà di Teologia dell'Italia Settentrionale di Milano, che sul Job Ex preferisce non esprimersi in attesa di studiare a fondo i contenuti del provvedimento del governo, sottolineando però che il lavoro secondo giustizia è questione attualissima. I profeti non fanno un discorso articolato sul lavoro, ad esempio il momento dell'impresa, il momento della creatività. Non basterebbe la voce profetica per affrontare il tema del lavoro. Però ha una voce salutare perché denuncia sistemi di ingiustizia che perpetrano esattamente un'oppressione verso le frange più deboli, le frange marginali, l'orfano, la vedova, le categorie dell'epoca, lo straniero, il forestiero e comunque oppure l'operaio che non riceve il salario. Cioè i profeti sono voci scomode perché denunciano le ingiustizie. Più che parlare di come si può creare lavoro, come si deve regolare il lavoro, questo lo fa di più la legge, mentre i profeti sono la voce della legge che entra nel presente. Non solo di lavoro si parlerà nel corso della settimana biblica diocesana, ma anche di famiglia e di festa, intesa come giorno da dedicare al Signore. Gli incontri, ospitati nella parrocchia San Paolo Apostolo, rappresentano vere e proprie riflessioni per le centinaia di fedeli presenti. Nella seconda serata cercheremo davvero di ricavare quella che è la visione più vera e più autentica del lavoro presente nella Sacra Scrittura, in modo particolare in alcuni testi della letteratura sapienziale. Nella terza serata affronteremo il tema della festa, del giorno del Signore e nella quarta serata invece il tema della famiglia. In modo particolare vedremo quelle che sono le caratteristiche fondamentali dell'amore coniugale.